Buonasera e benvenuti al primo incontro con Dante dall'Inferno al Paradiso. È veramente un onore per me presentare questa iniziativa che ci permette di condividere la bellezza della letteratura dantesca anche in questo periodo di pandemia. Vorrei subito chiamare a fare un breve introduzione dell'iniziativa al presidente dell'Associazione sul Palco della Vita, organizzatrice dell'evento Ladis Kumar Anthony Javier. Laureato in filosofia indiana in teologia cristiana, appassionato del dialogo interreligioso, del dialogo eucumenico e interregionale. Di professione informatico è il primo presidente non italiano nella storia delle acchi. Prego Ladis, lei ha la parola. Buonasera, buonasera a tutti. Sono molto molto contento di questo inizio di bel percorso che faremo sul mondo di Dante Alighieri. Come mi vedete sono uno straniero, ma sono molto contento, curioso di conoscere questo personaggio di grande importanza della cultura italiana. Chi vive in una terra come Italia deve assolutamente conoscere questo personaggio. Allora, essendo un'associazione culturale di promozione sociale, abbiamo individuato, quasi abbiamo creduto, come se fosse un evento obbligatorio da realizzare quest'anno. Il nostro entusiasmo cresce sempre. Allora, quest'anno, siccome ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, abbiamo voluto dare l'accentuazione e l'intensificazione sulla figura di Dante da questa sera in poi avremo 12 incontri per un anno. Il meeting è soprattutto rivolto agli immigrati che vivono da anni in Italia perché questi incontri possono essere uno strumento di integrazione culturale e sociale delle persone che vivono in Italia. E non solo, è rivolto anche agli emigrati che vivono all'estero. Magari vivono da tanti anni, quasi hanno dimenticato questo personaggio. Allora, questi incontri possono essere un aiuto a queste persone. E non solo, avrei anche individuato un'altra categoria delle persone che possono ascoltare, seguire questo evento. Perché magari tanti italiani stessi, magari presumono di sapere questa figura così importante, ma forse nel corso della vita l'hanno quasi dimenticato. Allora, un'oretta, una sera, invece di stare davanti alla televisione, possono stare con noi per conoscere meglio questa figura tanto lodato nella cultura italiana. Ogni primo sabato del mese avremo questo incontro, sempre alle 18 e durerà un'ora e un quarto. A questa iniziativa hanno aderito diverse associazioni, diversi soggetti sociali, tra cui Acli Arte e Spettacolo di Perugia, l'autoradio Arcipelago Libri, Assisi Suono Sacro, Ars Pace e questi sono gli organizzatori che hanno dato un contributo importante. Hanno aderito anche le Acli Perugine, Centro Turistico Acli di Perugia, Apiterra Perugia, Compagnia in Almandina, la Casa degli Artisti di Perugia. Hanno aderito anche due istituti comprensivi scolastici numero 13-14 di Perugia perché abbiamo voluto la loro adesione. Noi tutti quanti che partecipiamo in questi incontri diamo un contributo con il nostro volontariato. Nessuno è pagato e noi ce ne vantiamo. Allo stesso tempo chiediamo ai nostri spettatori se è possibile possono fare delle donazioni. Le donazioni verranno rivolte agli scolari dell'anno 2021 e 2022 che possono comprare dei libri oppure cancelleria. Questo è un gesto anche che teniamo molto importante durante il nostro percorso. Detto questo ringrazio tutti quanti della serata di oggi partendo dall'amico Roberto e tutti quelli che collaboreranno insieme a lui per abbellire questa serata e ringrazio tutti quanti veramente di cuore. Grazie e buon divertimento, buon approfondimento di Dante Alleghieri. Grazie, grazie, grazie. Grazie Ladis. Passo ora ad illustrarvi come si svolgerà l'evento. Avremo quattro blocchi dove si alterneranno senza mia interruzione i nostri ospiti. Si inizierà con la relazione del nostro esperto, a seguire la lettura recitata dei nostri attori e degli intermezzi musicali. Per il blocco recitazione abbiamo nel ruolo di Dante narratore Carlo Floris di l'autoradio. L'autoradio è più di una semplice radio, è un laboratorio di informazione indipendente che prende forma nel 2014 tra le mura del centro sociale ex mattatoio di Perugia. Tutto autogestito, tutto autofinanziato. Carlo Floris è più o meno nel mezzo del cammino della sua vita. Ha tradotto libri di autori francesi, tra cui il premio nove e l'eclezio. Poi ne ha scritto uno suo, dal titolo Sei colpi di pistola, e conduce Arcipelago Libri, un podcast letterario con inchieste narrative e poetiche. La voce di Dante nei dialoghi è di Maurizio Ripetto, attore professionista, direttore del teatro La Felice di Arzoli, provincia di Roma, vicepresidente della compagnia teatrale Settimo Cielo e autore del podcast come radioteatro e pezzi di vita inutili. Virgilio sarà invece interpretato da Fabrizio Furiosi, 37 anni perugino, impiegato nel privato. Dal 2014 recita nella compagnia Breakfast Club di Marsciano e dal 2016 in quella del Canguasto di Perugia. Infine, nelle vesti di Beatrice, vedremo Luisa Cascianelli, 32 anni di Todi, avvocato a Perugia. Dagli anni del liceo classico ha recitato nella compagnia teatrale I Rusteghi, diretta dal professor Giorgio Mori, interpretando il ruolo di Lola nel Povero Piero di Achille Campanile, di Madeleine in 13 a tavoli di Magie Bè Soaillon e di Sofia Zubrischi nell'opera teatrale Fools di Nel Simon. Per il blocco musica, Andrea Ceccomori, flautista internazionale di grande versatilità, musicista ufficiale del Memorial September 11 New York, ha collaborato con vari artisti tra cui Vladimir, Martinov, Ludovico Einaudi e Franco Battiato. Ha suonato in importanti centri esteri, arrivando fino in Sud America e in Africa. Due volte solista in Vaticano, è stato recensito da diverse testate, tra cui Famiglia Cristiano. È inoltre segretario dell'Associazione Arts Pace, promotrice dei valori fondamentali della pace nel mondo attraverso la cultura delle arti, ritenute il vero linguaggio universale, in grado di raggiungere direttamente la sensibilità più recondita delle persone, ristabilendo così un'armonia. Ad accompagnarlo due violiniste, Valentina Palazzari e Lucrezia San Nicoli. Valentina Palazzari ha iniziato lo studio del violino a soli tre anni, si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio Morlacchi di Perugia, collabora stabilmente con l'Orchestra Filarmonica Campana, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e l'Orchestra da Camera di Perugia. Si è esibita presso l'Istituto di Cultura Italiana a Vienna e in qualità di docente insegna violino nella scuola secondaria di primo grado. E Lucrezia San Nicoli, classe 1993 di Gubbio, anche lei sviluppa la passione per il violino sin da bambina, diplomata nel 2016 al Conservatorio Morlacchi di Perugia. Collabora con diverse orchestre, tra cui l'Orchestra da Camera di Perugia e l'Orchestra Giovanile Italiana. Tra gli artisti con i quali ha avuto il piacere di lavorare troviamo Anna Tgifu ed Ezio Bosso. Ma come vi anticipavo, tutti questi momenti saranno preceduti dal commento tecnico del nostro esperto di Dante, con il quale affronteremo i primi due canti dell'Inferno. Roberto Contu insegna lettere nella scuola secondaria superiore, si occupa di letteratura italiana contemporanea e di didattica della letteratura. A riguardo ha pubblicato saggi in rivista e volume. Nel 2015 per Tipi di Aguaplano ha pubblicato Anni di Piombo, Penne di Latta, nel 2017 invece per Castelvecchi il romanzo Il Vangelo secondo il ragazzo. Nel 2019 per la colana Glitch di Aguaplano ha pubblicato Insegnanti, il più e il meglio. È redattore del blog La letteratura è noi. Ricordo ai nostri spettatori che al termine del quarto blocco verrà aperto uno spazio per le vostre curiosità e domande, che verranno raccolte attraverso le chat di Facebook e YouTube dove siamo attualmente online. Invito dunque Roberto Contu ad iniziare ufficialmente il primo incontro su Dante Lighieri, dall'Inferno al Paradiso. Buonasera a tutti, per me è veramente un piacere fare questa esperienza insieme a voi e iniziare a parlare della commedia non è semplice, però io utilizzo proprio la parola esperienza perché quando inizio a scuola ad affrontare Dante con i miei studenti nel terzo anno parlo sempre della commedia, della lettura della commedia, come di un'esperienza, una delle più belle e importanti che possono capitare nella vita e soprattutto un'esperienza per tutti. Però questa sera io darei anche una definizione ulteriore della commedia che è quella di opera mondo. Perché opera mondo? Perché all'interno della commedia c'è un vero e proprio mondo, un universo potremmo dire, ma poi anche un'opera nel mondo. Questa è un'iniziativa rivolta a persone che vivono anche in diversi continenti e in ognuno dei luoghi del mondo noi troveremo sempre una biblioteca all'interno della quale c'è una copia della commedia di Dante. Ma è anche la commedia un'opera nel mondo, nel mondo di ognuno di noi. Ognuno di noi, in Italia ovviamente, ma anche in tutto il resto del mondo, abbiamo una nostra piccola storia personale di rapporto con l'opera di Dante. Io mentre preparavo questo incontro utilizzavo un libro che ho utilizzato negli anni del liceo, che è il commento della commedia di Natalino Sapegno. E mentre sfogliavo un po' i libri, a un certo punto, condivido con voi questo fatto, ho trovato a margine di un canto una frase che avevo scritto nella commedia quando avevo 16 anni e mi sembra forse il modo migliore per iniziare, per dire che comunque è un qualcosa che ha a che fare con l'esperienza di ciascuno di noi e in questo caso con la mia esperienza. E io, a quel tempo avevo 16 anni, scrivo queste frasi, copiate sicuramente da qualche manuale. Si tornerà a leggerla almeno fino a quando la letteratura cercherà un contatto profondo con la realtà, fino a quando la parola umana, con la sua fragilità e la sua forza, sarà ancora capace di esprimere la speranza in un mondo diverso e più giusto. Questo lo scrivevo a 16 anni ed è legittimo che ognuno di noi idealmente appunti le sue idee sulla commedia, perché la commedia è vero, è un'opera complicata, complessa, ma è un'opera che però può essere letta a tantissimi livelli e quindi è giusto che la commedia sia studiata dall'accademico, dal filologo, ma è altrettanto giusto, importante e addirittura io dico sacro rispetto all'intenzione di Dante, che la commedia sia letta, compresa e capita da tutti. Dante a un certo punto nella sua vita scrive una lettera, poi c'è un po' di discussione se questa lettera sia vera o meno, a un signore che l'aveva ospitato, can grande della scala, dove a un certo punto parlando di questa opera Dante dice che il fine della commedia, la lettera è latino, io vi dico in italiano, è accompagnare gli uomini alla felicità. La Divina Commedia è un'esperienza che può portare alla felicità e questo è nelle parole di Dante. Chi è Dante? Dante è un uomo che nasce a Firenze nel 1265, si forma a Firenze, fa tante esperienze, alcune molto importanti, frequenta un circolo di poeti quelli del dolce stil nuovo, incontra personalità importanti, vive l'esperienza della guerra, conosce una donna, poi ne parleremo, Beatrice Portinari. Nel 1295 si impegna anche in politica, inizia una carriera importante che lo porterà nel 1300 a ricoprire un posto importante a Firenze, quindi entrerà nel governo della città e poi nel 1302 arriva all'evento che spacca in due la sua vita. Dante viene esiliato per motivi politici. Roberto, non si sente il microfono, Roberto. Mi sentite ora? Adesso sì. Ok, dicevo c'è un dibattito su quando Dante abbia iniziato a scrivere la sua opera, però sicuramente non tutta l'opera è stata scritta in una condizione di esule, di un uomo lontano dalla sua patria, un uomo che per certi versi vive l'esperienza di molti che a un certo punto devono lasciare il proprio paese e vivere in un altro paese. In questo periodo Dante concepisce quest'opera grandiosa. Questo è l'uomo che seguiremo in questo percorso. Che cosa ci racconta Dante? Dante ci racconta un viaggio. La commedia è il racconto di un viaggio, un viaggio incredibile che si svolge attraverso tre regni, un viaggio nel quale Dante, Dante lui, lui stesso, sarà accompagnato fondamentalmente da due guide principali. Il primo Virgilio, la seconda Beatrice e poi quando leggeremo i versi diremo qualcosa in più. È un racconto, quindi è proprio un vero e proprio racconto. Noi oggi potremmo utilizzare una parola che al tempo di Dante è impropria, però potremmo parlare proprio di un vero e proprio romanzo, anche se poi effettivamente è un poema. È un racconto, quindi racconta fatti, esperienze, incontri, Dante incontra persone, ma è ovviamente anche un racconto che ci parla d'altro. In ogni fatto raccontato, in ogni persona che Dante incontra nel suo percorso, noi siamo chiamati naturalmente a trovare dei significati importanti e sono significati che parlano alla vita di Dante, ma parlano anche alla nostra vita e questo è forse veramente il segreto perché noi continuiamo a leggere Dante a 700 anni di distanza. Se noi superiamo lo scoglio della lingua, se noi siamo aiutati a entrare dentro quest'opera, indipendentemente dalla nostra preparazione culturale, incontreremo personaggi, fatti, storie che parlano anche a noi stessi. Quando si svolge questa storia? Abbiamo detto che Dante scrive questa storia a partire dall'inizio del Trecento, ma nella storia raccontata Dante, il personaggio, fa un viaggio che inizia la notte tra il 7 e l'8 aprile del 1300 e termina alla mezzanotte del 14 aprile del 1300, quindi abbiamo un tempo ben preciso. Dante è bravissimo, utilizzando le costellazioni nel suo racconto, a spiegarci punto punto dove si trova. Il titolo, commedia. Il titolo è un non titolo perché in realtà questa parola commedia è entrata nella tradizione a partire proprio da quella lettera di cui vi dicevo primo. E in realtà il titolo commedia ha a che fare non tanto con l'opera in sé, ma è una specie di catalogazione del genere. Ci dice che quello è un racconto che parte da una situazione problematica, nera, buia e arriva a un esito felice. E poi è un titolo che ha a che fare col tipo di lingua che Dante utilizza in quel libro, ovvero una lingua media. Noi tutti sappiamo che però poi si parla non tanto di commedia, ma di divina commedia. In realtà l'aggettivo divina è stato aggiunto molto dopo. Il primo in realtà forse è proprio boccaccio, quindi siamo ancora nel secolo di Dante, ma questo titolo è entrato nella tradizione a partire dal 1500. La divina commedia è divisa in tre cantiche, da non confondere con i canti. La prima cantica è l'inferno, la seconda è il purgatorio e la terza è il paradiso. La prima cantica, l'inferno, è fatta di 33 canti più uno. Perché dico più uno? Perché il primo canto che leggeremo oggi è l'introduzione, o meglio, il proemio dell'opera. Poi ci sono 33 canti nel purgatorio e 33 canti nel paradiso. Se noi facciamo la somma abbiamo 100 canti. Dico questo perché i numeri sono importanti nella commedia. La commedia, dal punto di vista della metrica, ovvero del tipo di struttura poetica, è scritta in terzine, cioè sono tre gruppi diversi e si dice concatenati, senza andare nel dettaglio, ma significa che le rime formano una specie di catena che ci accompagna dall'inizio alla fine del cantico. Quindi vedete il tre è un numero ricorrente, le tre cantiche, le terzine, e ovviamente ha a che fare con la Trinità, perché la commedia è in tutto e per tutto un'opera che viene, si inquadra in un mondo cristiano. Da dove parte la commedia? Parte da un bosco, da una selva. Che cosa rappresenta questa selva? È importante partire da questo punto perché ci fa capire anche il doppio livello attraverso il quale possiamo leggere la commedia. Dante, e ora ci arriveremo, a 35 anni, nel mezzo del cammino di nostra vita, si trova in una selva oscura, in un bosco scuro. Noi dobbiamo sempre immaginare un doppio livello di lettura. Noi dobbiamo immaginarci Dante proprio dentro un bosco, un bosco oscuro, tenebroso. Nel 1300 i boschi facevano paura. E però dobbiamo anche pensare che quel bosco forse ci fa pensare a qualcos'altro, a un momento buio della vita di Dante. La selva rappresenta un periodo di perdizione, un momento di crisi di questo personaggio. Questi due livelli a cui ho fatto riferimento sono il primo, si chiama livello letterale, cioè noi leggiamo e interpretiamo quello che abbiamo proprio lì davanti. E l'altro potremmo chiamarlo a livello allegorico, che è una parola semplicemente per indicare il fatto che dietro la realtà, quella concreta, la selva, il bosco fatto con gli alberi, possiamo trovare un altro significato più ampio o più astratto. Dante è perso lì dentro, non sa che fare. probabilmente i biografi parlano di un momento di crisi della vita di Dante, ma se vi ricordate quello che vi ho detto della sua vita spaccata in due, capiamo perché. A un certo punto però vede un colle illuminato dal sole. Pensa di potersi salvare e inizia a camminare. Inizia a camminare verso questo colle, però a un certo punto trova il primo grande ostracolo. Ci sono tre animali feroci che si frappongono tra lui e il colle. Il primo animale è una lonza, immaginate un leopardo, un ghepardo, poi dopo incontra un leone e poi ancora dopo una lupa. Dante riesce a superare i primi due animali, prova a farsi forza, ma il terzo animale per Dante è la rovina. Lui non riesce più andare avanti e si ritrova di nuovo perduto solo in mezzo alla selva. Questa è la prima parte, i primi 60 versi del primo canto, che ora i nostri lettori ci faranno ascoltare. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual'era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante è amara che poco e più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altro. Io non so ben ridir come vi entrai, tante rapien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mavea di paura il cor compunto. Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pieta. E' come quei, che con l'ena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi a cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pelma colato era coverta. E non mi si partia dinanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempe era dal principio del mattino. E il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sica bene sperar mera cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non si che paura non mi desse, la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, di che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sendiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi forse tanto di gravezza, con la paura cuscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. È quale quei che volontieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e sa trista. Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro, a poco a poco, mi ripigneva là, dove il sol tace. Bene, questo era il primo canto dell'Inferno, ed ora possiamo sicuramente introdurre quello che è il primo brano musicale in programma, che verrà eseguito, come ha anticipato da Veronica, eseguito da Valentina Palazzari e Lucrezia Sannipoli, che ci suoneranno il primo tempo della sonata canone numero uno di Georg Philipp Telemann. Georg Philipp Telemann è un compositore barocco, coevo di Bach, che ci aiuterà sicuramente nella riflessione e approfondimento emotivo del testo, sia del testo che abbiamo ascoltato, sia di quello che andremo ad ascoltare successivamente. Che dire, di sicuro nei canti dell'Inferno della Divina Commedia non è presente alcun riferimento alla musica, che noi sappiamo, proprio per sottolineare la impossibilità dei dannati a poter ascoltare musica, che fosse in qualche modo per loro di sollievo. E quindi potremmo dire che non ci sono quindi né melodie né armonie nell'Inferno, se non qualche timido accenno che fa Dante per esempio a dei corni, a delle zampone o comunque sia a dei suoni in qualche modo molesti. Quindi ascolteremo questo brano di Bach, di scusate, di Pelemann, che ci aiuterà nella comprensione dell'armonia degli entecasillabi danteschi. Più avanti invece, nei prossimi incontri, accenderemo anche alla musica al tempo di Dante. Qual era l'atmosfera musicale che circondava la composizione della Divina Commedia? E quindi l'Arsnova, Boezio, Guido d'Arezzo, la monodia, il canto gregoriano, la musica liturgica, la prassi esecutiva del Medioevo, tutti questi elementi che caratterizzano appunto l'atmosfera del mondo esteriore di Dante, della musica al tempo di Dante. Ma vedremo soprattutto, ed è qui che mi piace soffermarmi di più e offrire ai nostri ascoltatori una panoramica molto più interessante, vedremo quella che è la musica del mondo interiore di Dante, come essa esprime gli stati d'animo del poeta e soprattutto quella a cui fa riferimento tutto il poema della Divina Commedia, che è l'aspetto che è senza dubbio più interessante perché appunto rappresenta non solo la Divina Commedia ma anche ha trasportato al giorno d'oggi il nostro mondo e tutto il nostro essere. Quindi direi di iniziare con la musica di Telemann, la sonata canone numero uno nel tempo vivace, eseguito da Valentina Palazzari e Lucrezia Sannipoli. Prego. Grazie. 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 Passiamo ora al secondo blocco, prego Roberto, grazie. Sì, noi in questa prima parte che abbiamo letto e che poi abbiamo comunque riascoltato anche attraverso l'esecuzione dal punto di vista emotivo, forse abbiamo percepito qualche passo un po' difficile, però vi richiamo a un verso che poi magari potete andare a rivedere. Quando Dante dice di essersi perso ci dice che lui non sa ridirci come è entrato in quella situazione. Qui faccio il primo aggancio un po' con la nostra esperienza personale. In effetti Dante ci sta parlando di un momento di grande difficoltà e noi tutti nella nostra esperienza di vita ci rendiamo conto che quando arrivano i momenti di difficoltà noi effettivamente non ci rendiamo conto come ci siamo andati a finire dentro. Cioè Dante ci parla di una crisi che è profondamente umana e anche quando noi abbiamo ascoltato la lettura dell'incontro con le tre fiere, all'inizio Dante prova un po' a motivarsi ma poi si rende conto che quelle sono difficoltà insormontabili e ci parla un po' di noi quando effettivamente sebbene abbiamo l'intuizione che magari abbiamo l'idea che possiamo andare avanti in certe situazioni difficili della vita poi a un certo punto ci sentiamo abbattere ed effettivamente la prima parte finiva così con Dante che torna al punto di partenza, si ritrova di fatto perso lì dentro. Nella seconda parte però c'è un primo colpo di scena se così possiamo chiamarlo e Dante a un certo punto si rende conto che non è solo nella selva, a un certo punto gli si para d'innanzi, cioè gli si mostra di fronte un personaggio che all'inizio non riconosce. Questo personaggio noi sappiamo tutti ovviamente che si tratta di Virgilio ma noi dobbiamo metterci quando leggiamo la commedia un po' dal punto di vista del lettore ingenuo. Per gustare appieno la commedia dovremmo sforzarci un po' di dimenticare tutto quello che abbiamo magari studiato o abbiamo appreso per sentito dire. Dante avverte questa presenza e piano piano però riconosce che quella persona, poi vedremo che in realtà non è una persona ma un'anima che gli si mette di fronte è proprio Virgilio. La scelta di Virgilio non è a caso. Virgilio, il grande poeta dell'età Augustea, l'autore dell'Eneide nato nel 70 avanti Cristo, morto nel 19 avanti Cristo, colui che aveva scritto la storia di Enea e quindi aveva creato un poema epico come c'erano stati in un altro mondo quelli di Omero e aveva portato quella tradizione nel nostro mondo latino, per Dante non è un autore qualunque. Dante ci dirà i versi che ascolteremo che Virgilio è stato il suo maestro, è stato il suo autore, è stato l'autore che lui ha continuamente studiato e letto ed è l'autore addirittura, ci dirà, che gli ha insegnato a scrivere. Cioè Dante mette nella commedia quello che per lui è un vero e proprio maestro, anche se è un maestro che viene da tutt'altra epoca. Sempre tornando a quel doppio livello che vi dicevo prima, il livello letterale, cioè quello che leggiamo sulla pagina e quello che però dobbiamo capire come significato ulteriore, noi ci ricorderemo forse dalla scuola oppure se l'abbiamo sentito dire che Virgilio rappresenta la ragione umana. Attraverso la ragione Dante farà la prima parte del viaggio e infatti Virgilio quando parla, dopo essersi presentato, vedremo che citerà anche Mantua, citerà le sue origini, dirà a Dante queste parole, a te conviene tenere altro viaggio, cioè tu non ce la fai a liberarti da questa situazione a meno che tu non faccia un altro tipo di viaggio e proporrà il viaggio che noi tutti sappiamo, vi proporrà una discesa prima nell'inferno, una risalita nel purgatorio e poi dirà a Dante se tu vorrai andare a vedere oltre a quel punto ci sarà qualcun altro che ti accompagnerà. Per capire bene la commedia, la sua struttura, occorre pensare un po' a com'era il mondo al tempo di Dante o perlomeno a come gli uomini percepivano il mondo. Il mondo per Dante era un pianeta fisso all'interno dell'universo con tutti gli altri pianeti che giravano intorno ed era diviso in due parti, c'era la parte superiore, l'emisfero boreale, che era la parte dove c'era la terra e l'emisfero australe invece era quello dove c'erano le acque. Immaginate una sfera fissa all'interno dell'universo e poi ci sono tutti i cerchi intorno, che poi Dante vedrà, e oltre questi c'è il paradiso, l'Empireo. È la struttura antica dell'universo che sarà poi rivista e sarà comunque ridefinita a partire dal Cinquecento, da Copernico. Dante farà questo viaggio, quindi scenderà guidato da Virgilio nell'imbuto dell'inferno, risalirà dall'altra parte, poi nell'emisfero opposto, salirà tutto il monte del Purgatorio e lì, in cima al monte del Purgatorio, nel paradiso terrestre, incontrerà una donna che sarà in grado invece di portarlo nel mondo più alto, cioè nel paradiso. All'interno di questo discorso ci sarà anche un riferimento che può apparire un po' oscuro, potrà apparire un pochino ostico, in effetti questo primo canto è un canto un po' ostico, tra l'altro questo si può dire, il primo canto non è nemmeno il canto più riuscito, non è uno dei canti più riusciti, è un canto che ha ancora dal punto di vista proprio dello stile, non raggiunge ancora le vette che poi vedremo più in là, perché è proprio un canto introduttivo, però c'è un riferimento ad esempio a un cane da caccia, un veltro, che fa riferimento comunque a un personaggio che Dante auspica, che poi potrebbe liberare e migliorare le cose nel mondo. Tutto questo per dirvi che l'incontro tra Dante e Virgilio, che ora ascolteremo, è l'inizio di un rapporto splendido, un rapporto bellissimo, un rapporto fatto d'amicizia, forse uno degli aspetti più belli che noi possiamo incontrare e apprezzare nella commedia, è questo rapporto tra questi due personaggi che viaggiano insieme in questi due mondi e che poi porterà Dante fino al vertice del purgatorio. Ed ora ascoltiamo la lettura dei versi 60-129. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sì, o d'ombra o d'omo certo. Vi spuosemi. Non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantuani per patria ambie due. Nacqui su Biulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto lo buon Augusto, nel tempo degli dèi falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Lion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Forse tu, quel Virgilio e quella fonte, che spandi di parlarsi il largo fiume. Ristuosi io, con vergognosa fronte. Oh, degli altri poeti, onore e lume, bagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui ho tolsi, un bello stile che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che la mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio. Rispuose, poi che lagrimar mi vive. Se vuoi campare desto loco selvaggio, che questa bestia, per la qual tu gride, non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto l'ompedisce che l'uccide. E a natura si malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infinché il veltro verrà, che la farà morire con doglia. Questi non ci berà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la vergine Cammilla, Eurialo, Eturno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, là onde invidia prima di partilla. On Dio, per lo tuo me, penso e discerno, che tu mi segui, ed io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida, e vedrai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti. Alle quai, poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. E quello imperador che lassù regna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte le parti impera, e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. Oh, felice è colui cui vi elegge. Bene, ora passiamo sempre all'ascolto musicale. Ascolteremo sempre di Georg Philipp Telemann, la sonata numero uno, il secondo tempo ad agio. Vi ricordo che le nostre violiniste, Valentina Palazzari e Lucrezia Sannipoli, stanno suonando in diretta. E quindi, appunto, sì, il secondo tempo ad agio. Perché il violino? Ecco, una domanda sicuramente che troverà spazio nella vostra curiosità. Non a caso abbiamo scelto il violino, perché è uno strumento tradizionalmente associato al diavolo, all'inferno. Si ricordi, per esempio, la sonata per il violino di D'Artini, il trillo del diavolo, oppure anche la musica stessa di Paganini, oppure a figure di diavolo che suona il violino. E' molto, c'è molta associazione tra il violino e il diavolo. E credo che sia proprio dovuto al suo particolare modo di suonarlo, il violino, appunto con lo sfregamento delle corde, le corde che simboleggiano appunto le passioni, infatti la corda come cuore, quindi il violino è il re degli strumenti a corde. Mentre abbiamo riservato il violoncello, e poi lo vedremo più avanti, la chitarra al purgatorio e l'arpa al paradiso. E poi vedremo anche perché queste associazioni. Ma volevo ancora soffermarmi un attimo sul rapporto della musica con la dimensione del cosiddetto inferno. Noi di solito siamo abituati a pensare ad una musica infernale, come a suoni molto bassi, grevi, pesanti, ritmi e melodie ossessive, sempre ripetitive, che mai danno luogo a dei cambiamenti, ma sempre l'ossessività. Ecco, quindi armonie tetre, chiuse, in modo minore, molte diminuite. Quindi una musica che, come dire, implode sempre dentro se stessa. Da questa sordida base musicale ecco che il violino cerca di erigersi con degli slanci emotivi che rappresentano come volessero rappresentare dei voli ambiziosi e degli aneliti degli stessi dannati. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale che fa da sfondo, secondo me, ai canti della Divina Commedia. E ora appunto Telemann ci aiuterà nella meditazione e nell'approfondimento di questi canti. Prego le nostre musiciste di seguire il tempo ad agio di Telemann. E ora appunto 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 Telemann. come durante la lettura avrete notato che effettivamente Dante è molto chiaro nel raccontare. e quando Dante fa il programma attraverso la voce di Virgilio del viaggio che verrà raccontato, noi siamo già in grado di capire quello che ci aspetterà. Io dico questo perché è un invito anche a chi si accosta alla commedia per dire che se si supera lo scoglio della lingua, ma ci sono delle edizioni commentate che ci aiutano in questo in modo molto chiaro, le note spesso sono molto esaustive, noi facciamo l'esperienza comunque di un racconto che è in grado di catturarci fin dall'inizio. E se ci pensate bene, quello che abbiamo visto è molto cinematografico, no? C'è questo uomo perso nel bosco che incontra questi primi, questo ostacolo impossibile da superare, le tre fiere, e poi incontra questo personaggio misterioso e quel personaggio misterioso è Virgilio, non un a caso. E poi Virgilio che dice a Dante c'è da fare questo viaggio, c'è da fare questa grande impresa, c'è qualcosa di importante che ci aspetta e fa proprio il programma, cioè andremo addirittura nell'inferno, scenderemo e poi saliremo tra coloro che comunque patiscono delle pene, ma perché sanno che poi arriverà per loro anche la beatitudine. E poi infine se vorrai andare oltre ci sarà chi ti accompagnerà. Noi abbiamo interrotto volutamente la lettura poco prima dalla fine del primo canto, perché ora quando riprenderemo la lettura voi ascolterete il finale del primo canto, nel quale Dante comunque accetta l'invito di Virgilio, e poi l'inizio del canto secondo in cui Dante si fa prendere dalla paura. Perché si fa prendere dalla paura? Dante ce lo spiega. All'inizio del secondo canto Dante inizia a nutrire dei dubbi forti, sempre più forti, e si rivolge direttamente a Virgilio e dice a Virgilio tu mi proponi questo viaggio, questo viaggio nel mondo ultraterreno, perché di questo si tratta, però soltanto due persone che io ho a mente hanno fatto prima di me questa impresa. E chi sono? Una è proprio Enea, il viaggio che fa Enea nel libro di Virgilio, nel sesto libro che scende agli imperi per incontrare Anchise, e l'altro è San Paolo, che nella seconda lettera ai Corinzi racconta un suo viaggio in paradiso. Ma Dante dice io sono Dante Alighieri, quello era Enea, l'altro era San Paolo, io sono Dante Alighieri, ed è bellissima questa parte che sembra diciamo meno intensa delle altre, perché? Perché Dante in tutta la commedia non ha assolutamente timore a metterci di fronte la sua umanità, Dante si sta imbarcando in un'impresa, un viaggio incredibile, ma se noi ci pensiamo bene si stava imbarcando il Dante reale nell'impresa di scrivere un'opera incredibile, e dice a se stesso, ma ce lo dice anche a noi, ma sarò in grado di fare questo? Questo è nelle mie corde, cioè Dante nella commedia affronterà tutti i grandi temi dell'uomo, tutti i più importanti, il senso della vita, della morte, il dolore, l'odio, e li prenderà tutti di petto e non avrà addirittura paura di metterci le persone, i nomi, i cognomi, le persone conosciute, le persone della grande storia, i grandi personaggi, ma anche i suoi amici, gente che noi conosciamo soltanto perché Dante li ha messi nella commedia, e quindi noi incontreremo in questo viaggio personaggi che vanno da Ciacco a Ulisse, all'Ulisse e Omerico, e poi incontreremo un suo amico nel Purgatorio, Casella, e lì però incontreremo subito dopo Manfredi, figlio di Federico II, e nel Paradiso incontreremo Cacciaguida, quello che è un suo antenato che darà a Dante tutto il senso della sua missione, ma addirittura alla fine della commedia Dante si troverà al cospetto di Dio. Ecco, l'opera, l'idea della commedia è imponente e fa tremare le vene e i polsi, come abbiamo ascoltato leggere, un'espressione che noi utilizziamo ancora oggi e che deriva proprio da questi versi che abbiamo letto. Quindi ora noi iniziamo la lettura e vedrete ci sarà la fine del primo canto, una piccola pausa, e l'aggancio col canto secondo nel quale Dante esprime a Virgilio tutti i suoi dubbi. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male è peggio, che tu mi meni là dov'ordicesti, si chioveggia la porta di San Pietro e color cui tu fai tanto mesti. Allora si mosse e io li temi dietro. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese i fu, pensando l'alto effetto, cuscir dovea di lui e il chi e il quale non pari indegno ad uomo di intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero dell'Empire Ocel per padre eletto, la quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per l'oloco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per quest'andata, onde li dai tubando, intese cose che furono cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andò di poi lo vas d'elezione, per recarne comporta quella fede che principio alla via di salvazione. Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono. Né degno a ciò, né io né altri il crede. Perché, se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio, intendi me, che io non ragiono. E qual è quei che disvuol ciò che volle, e per nuovi pensier cangia proposta, sì che dal cominciare tutto si tolle? Tal mi feci io in quella oscura costa, perché, pensando, consumai l'ampresa che fu nel cominciare cotanto tosta. Bene, chiudiamo quindi il terzo blocco di letture con la musica, con l'ultimo tempo, sempre della sonata di Telemann, il canone numero uno, l'ultimo tempo, Allegro, sempre seguito da Valentina Palazzari e Rufrezia Sannipoli. Telemann, diciamo che grazie al suo senso spiccatamente contrappuntistico, la quintessenza fondamentale della tonalità e quindi dell'armonia, ci aiuta e ci guida un po' nel profondimento e nella meditazione dell'eccellza poesia del sommo poeta. Poi nei prossimi incontri ci soffermeremo, mi piacerà soffermarmi dunque anche sulla musica che circondava l'aura, l'aura della poesia di Dante e il tempo in cui egli viveva, qual era il suo rapporto con essa, anticipando già fin d'ora che però che tutto in Dante passava attraverso la sua visione, la sua ispirazione e la contemplazione. Ma di questo mi pregerò di parlarne più avanti. Quindi niente, approfitto per ringraziare ovviamente le nostre violiniste, cui va ovviamente un caloroso applauso, sebbene virtuale, e i protagonisti di questa puntata, tutti gli ascoltatori, e approfitto anche per ringraziare e ricordare le associazioni di cui faccio parte e che mi hanno sostenuto, cioè Assisi Suono Sacro e Ars Pace, questo neonato progetto di arte e cultura per la pace. E poi scopriremo perché il suono sacro e perché l'arte per la pace, ma nelle prossime puntate. Prego, con la musica. Grazie. 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 anche noi oggi nel 2020 questo viaggio, cioè di rileggere la commedia, no? In realtà Dante da questo punto di vista ci conforta, ma più che Dante è proprio Virgilio che a un certo punto capisce la difficoltà di Dante, capisce la paura. Dante, ripeto, non ha mai timore nel mostrare la paura, la debolezza. Dante ci farà assistere a numerosi momenti di debolezza durante il suo percorso e a quel punto Virgilio racconta il perché lui è andato a ripescarlo letteralmente dentro la selva oscura e Virgilio dice a Dante che lui era nel limbo, poi vedremo più in là di che si tratta, in quel luogo dove lui si trova, tra coloro che sono sospesi, riceve la visita di una donna. La donna è ovviamente Beatrice e Beatrice chiede a Virgilio che vada a riprendere Dante in quella situazione dove si è cacciato, ma non è la sola che ha questo desiderio. Beatrice arriva per intercessione, per richiesta di altre due donne. La prima è Santa Lucia, una santa a cui Dante è devoto e ci fa capire in un'altra opera che si chiama Convivio, che Dante probabilmente era devoto a questa santa per dei problemi agli occhi da cui era stata affritta a un certo punto, e l'altra è la donna delle donne, è Maria. Queste tre donne hanno messo in atto questa catena affinché Virgilio vada ad accompagnare Dante, a riprendere Dante nella selva, ad accompagnarlo nel viaggio. Si tratta dunque di un piano provvidenziale, c'è Dio di mezzo ovviamente, ma Dante non fa questo viaggio a caso. Beatrice è una donna di cui abbiamo sentito parlare tutti, Beatrice è una donna storica, Beatrice Portinari, e per capire che Beatrice, per apprezzare come Dante trasfigura Beatrice all'interno della sua opera più importante, dovremmo riprendere altre opere di Dante, in particolare un'opera che si chiama La vita nuova, che è un'opera che Dante scrive al termine del suo percorso letterario giovanile, nella quale proprio racconta il suo amore per Beatrice, in modo ovviamente legato alla sua epoca, ma in modo splendido. E qui c'è un piccolo riferimento da fare, suggestivo, qualche filologo potrebbe storcire la bocca perché c'è un dibattito rispetto a questo legame, però è vero che al termine della vita nuova, che parla di Beatrice, Dante fa una promessa solenne. Tutto il libro parla di Beatrice, però arrivato al termine dell'opera, Dante dice che lui spera di dire di quella donna quello che nessuno mai disse di un'altra donna, cioè fa una promessa, io scriverò per Beatrice e di Beatrice nel modo e quello che nessuno è stato mai in grado di scrivere. Ora se Dante già allora facesse riferimento alla commedia in realtà è un tema molto discorso, però noi la suggestione possiamo prendercela. Effettivamente Beatrice Portinari, una ragazza di Firenze, si ritrova protagonista dell'opera, una delle opere più importanti della letteratura di tutti i tempi. Quindi questo è bello, questo crea suggestione. Noi ascolteremo il racconto di Virgilio e poi faremo un piccolo salto fino al termine del canto in cui Dante ci fa capire che le parole di Virgilio lo hanno confortato e gli hanno dato il coraggio che gli serviva. Ed è importante perché Dante questo ce lo racconta attraverso proprio il linguaggio della poesia. Nella commedia noi troviamo tantissime similitudini, cioè è una strategia poetica per rendere un'idea. E alla fine di questo canto noi sentiremo dire di fiori che dopo il gelo della notte risbocciano e si riaprono. Dante si sente un po' come quei fiori. Sottolineo questo perché un altro aspetto su cui ci siamo soffermati poco è che noi al di là della storia, al di là dei fatti narrati, al di là delle grandi domande, al di là dei grandi personaggi, ma anche personaggi comuni che incontriamo nella commedia percepiamo tanta poesia. Cioè ci sono delle immagini che ci rimangono dentro e delle immagini che anche oggi ci impressionano per la potenza poetica. Ascoltiamo la lettura. Io era tra color che sono sospesi e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevano gli occhi suoi più che la stella e cominciòmi a dir suave e piana con angelica voce in sua favella. Grazie. 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 Sennò provo a farla io Beatrice. Vediamo, aspettiamo un attimo. Non riesce proprio a riattivarlo. E se prova a uscire e rientrare nella riunione? Proviamo, sennò davvero provo io. Mi perdonerete, ma presto io la voce a Beatrice. Certo, ok, proverei giusto questo tentativo. Sì, lei è uscita, proviamo un attimo. Poi Virgilio se ricominci, da io e da tracolore che sono sospesi. Funzionava, abbiamo fatto le prove. No, infatti è tutto molto strano questa cosa, sì, veramente. Attendiamo Beatrice se riesce. Non so se ha già fatto richiesta per riaccedere. Stai entrando. Ok. Benissimo, attendiamo. Attendiamo nel frattempo. Eccola, eccola con l'audio attivato. Perfetto, prego. Vai, Virgilio. Io era tra color che son sospesi e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciòmi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Oh, anima cortese e mantuana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana. L'amico mio e non dell'avventura nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammino che voltè per paura. E temo che non sia già sì smarrito che io mi sia tardi al soccorso elevata per quel che io ho di lui nel cielo udito. Tu ormovi e con la tua parola ornata e con ciò che a misteri al suo campare l'aiuta sì chi ne sia consolata. Sì, son Beatrice, che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar di sio. Amor mi mosse che mi fa parlare. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poiché il sole in bianca si drizzano tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtù de stanca e tanto buono a dire al cor mi corse che cominciai come persona franca. Oh, pietosa colei che mi soccorse e te cortese e cubidisti tosto alle vere parole che ti porse. Mai con desiderio il cor disposto sia al venir con le parole tue che son tornato nel primo proposto. Or va, un sol volere ed ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro. Così li dissi e poi che mosso fue intrai per lo cammino alto e silvestro. Ringrazio tutti i nostri ospiti che ci hanno fatto immergere in maniera veramente intensa e profonda nel mondo dantesco. E concluderei il viaggio di questa sera con l'intervento del pittore Mario Sciarra che ci mostrerà e spiegherà un suo dipinto dedicato all'occasione. Mario Sciarra nasce a Castropignano, Campobasso, nel 1948. Frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera e una volta terminati gli studi intraprende la carriera di stilista alimentando la sua passione per la pittura grazie alla zia Novella Parigini. A metà anni 70 si stabilisce a Perugia e inizia a firmare una linea di capi di cashmere di altissima qualità. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all'estero. Invito pertanto Mario Sciarra a presentarci il suo dipinto. Microfono. Microfono. È spento. Eccoci. Va bene? Sì, sì, la sentiamo. Ah, benissimo. Ciao a tutti. Buonasera. Mi avete invitato a questa partecipare a questa cosa bellissima e ho preparato due opere per rappresentare questi 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Praticamente ho preferito utilizzare una tecnica del carboncino per mettere in evidenza col chiaro e scuro appunto la figura che ho visto in Dante che praticamente si adentrava in questa selva oscura e mettere in evidenza il chiaro del celeste, diciamo, e l'oscuro della selva. ora ora vi faccio vedere e ho cercato di rappresentare due momenti di Dante come praticamente l'ho pensato io. Qui è mentre lui è mentre lui scusate c'è l'audio allora qui l'ho rappresentato mentre lui è pensieroso ed è preso nel pensare nell'invento nella scrittura della Divina Commedia e qui invece ho voluto rappresentare l'altra parte di Dante importantissima che è l'amaro che ha scritto la Divina Commedia e utilizzando questo discorso del chiaro oscuro e del carboncino io ho voluto che mettere in evidenza la parte ancestrale e la parte oscura della Divina Commedia ok? basta? grazie ok salve grazie mille Mariusciara veramente un contributo interessante c'è stato il problema di chi non riusciva a vedere se eravamo collegati o no allora si è sentito tutto si è sentito tutto e è stato veramente interessante ascoltarla e ricevere queste suggestioni del contrasto dato dal sapiente uso del carboncino veramente veramente molto interessante e direi più che all'altezza di tutto il nostro evento in generale come promesso diamo ora spazio alle domande a riportarle in diretta sarà Carla Medici vicepresidente dell'associazione la casa degli artisti di Perugia associazione culturale anch'essa promotrice dell'evento che si propone come luogo di aggregazione atto a generare interesse intorno al mondo dell'arte e del territorio attraverso l'organizzazione di corsi seminari mostre e serate prego Carla eccoci mi sentite sì sì un attimo ecco allora buonasera a tutti un attimo solo eccoci non so perché c'è un eco non so come mai se voi mi sentite bene sì sentiamo un leggero un leggero eco ma direi che è sostenibile tutto sommato perfetto allora come dicevo buonasera a tutti ecco stiamo seguendo l'evento qui dalla sede della nostra associazione la casa degli artisti di Perugia e vediamo che anche se questo è un primo incontro c'è molto interesse da parte degli utenti abbiamo individuato due domande interessanti da fare all'esperto Roberto Contu da chi ci sta seguendo la prima domanda è questa perché Dante si definisce più di una volta nella Divina Commedia profeta? allora questa è una parola complessa perché innanzitutto bisogna innanzitutto chiarire che cosa intendiamo per profeta se per profeta noi intendiamo comunque colui che parla proprio ispirato attraverso comunque un'ispirazione attraverso una visione che comunque è voluta da Dio in realtà Dante è profeta forse veramente soltanto nella visione di cui vi ho detto prima nella vita nuova il profetismo di Dante all'interno della Commedia è molto presente però è molto più declinato dal punto di vista comunque del pensiero politico della visione politica di quello che sarà comunque il futuro storico della Terra e poi Dante comunque vive la dimensione della profezia negli incontri che lui ha soprattutto nell'inferno ma anche negli altri due regni in cui altri personaggi comunque profetizzano a Dante quello che è l'esilio che lui vivrà quindi sicuramente tutta la Commedia può essere letta comunque da un punto di vista diciamo profetico un uomo che attraverso la propria esperienza comunque dice una parola importante sulla storia e qui però bisogna fare sempre attenzione perché bisogna capire con che occhi leggere la Commedia perché noi possiamo leggere decidere di leggere la Commedia unicamente con un'esperienza cristiana e questo ha un senso sicuramente del legittimo però bisogna anche contestualizzare la Commedia nel periodo storico in cui effettivamente viene scritto nel mondo dalla quale emerge e a quel punto anche la parola profeta assume un altro significato bene la seconda domanda è questa è vero che Dante non riuscì a terminare gli ultimi canti perché morì e che il figlio lo fece per lui? allora in realtà sulla questione degli ultimi canti della Commedia c'è stata una grande narrazione della Commedia immediatamente dopo la morte di Dante e uno dei protagonisti principali tra l'altro è proprio Boccaccio il quale ha scritto un'opera che si chiama Trattatello il laudo di Dante e all'interno di quest'opera noi tra l'altro troviamo la storia degli ultimi tredici canti del paradiso che effettivamente non erano stati ancora conclusi o trovati e Dante sempre in questo racconto sarebbe apparso ai figli Pietro e Jacopo facendo ritrovare loro i tredici canti la questione degli ultimi canti in realtà ha a che fare proprio con un problema enorme che noi abbiamo con la Commedia che è questo noi della Commedia non abbiamo il manoscritto ok a differenza dell'altra grande opera del Trecento di Petrarca di cui abbiamo addirittura la brutta copia non abbiamo il manoscritto della Commedia che per gli studiosi effettivamente è un po' il santo graal della filologia cioè trovare quel manoscritto se ancora esiste o meno sarebbe veramente il sogno di ogni studioso ma noi non abbiamo quel manoscritto e quindi tutta la questione della scrittura della Commedia quando sia stata scritta in che periodo ma addirittura quando sia stata iniziata è un discorso molto complesso dal punto di vista della filologia tant'è che noi la Commedia che leggiamo in realtà è il frutto di uno studio che ha dato l'edizione definitiva soltanto nel Novecento noi studiamo sull'edizione di Petrocchi che comunque è un'edizione che arriva soltanto nel Novecento e quindi anche tutto quella che è la parte finale della scrittura della Commedia quindi gli ultimi canti del Paradiso sono un po' annebbiati in questo che da una parte è un po' un mistero che si crea in quel contesto soprattutto nei primi secoli in cui la Commedia inizia a circolare si crea anche un mito della Commedia ma a che fare proprio anche con la storia reale della Commedia che è un libro di cui noi non abbiamo il manoscritto grazie grazie veramente al nostro esperto Roberto Conto per le sue esaustive risposte alle nostre domande e a Carla Medici per la preziosa collaborazione ebbene siamo ormai giunti ai saluti finali invito infatti a fare un rapido saluto Walter Betti presidente Acli Arte Spettacolo Perugia grazie Walter prego buonasera a Veronica che fa parte della Compagnia In è sempre molto brava grazie un ringraziamento speciale all'Adis che ha permesso questo evento così importante che faremo una volta al mese e questo ci gratificherà e un ringraziamento a tutti gli interpreti tutti i professori che ci hanno seguito e ci hanno potuto far fruire Dante nel modo semplice e capibile grazie di nuovo e al prossimo incontro grazie l'Adis grazie Walter non vediamo l'ora di averti anche nei prossimi incontri e rinnovo i ringraziamenti a tutti gli ospiti che hanno offerto davvero un pregevole contributo all'incontro di grande spessore culturale e ringrazio anche le associazioni che hanno patrocinato l'evento vi do appuntamento a sabato 6 marzo per il secondo incontro con Dante dall'inferno al paradiso il prossimo esperto sarà Camilla Mariani Zucchi con cui seguiremo Dante nell'inferno arrivando all'incontro con i dannati Paolo e Francesca grazie per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serata